Il Partito Democratico dimostra di non avere un'idea chiara su come guidare il Paese. Rischia di portare l'Italia allo sfascio, noi li invitiamo a riflettere perché così portano il Paese a sbattere. Non è questo il destino dell'Italia, non è questo che milioni di cittadini italiani hanno voluto dire con il proprio voto.